Serve una straordinaria iniziativa a sostegno del lavoro e l'appello del segretario generale della CGLBAT Luigi Antonucci che questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha tracciato un bilancio sulla situazione occupazionale, economica e sociale del territorio, uno dei più colpiti dalla crisi. A parlare sono i numeri. Da gennaio 2013 ad oggi sono diminuite le richieste di cassa integrazione, al contrario sono aumentate quelle di disoccupazione. Le aziende stanno chiudendo. A testimoniarlo sono le richieste di licenziamenti collettivi e di mobilità. Dal primo gennaio di questo nuovo anno sono ben sei le aziende che hanno presentato questa domanda presso l'ufficio provinciale del lavoro. Non solo, l'abbate tra i territori con il più alto livello di disuguaglianza dei redditi. La forbice tra i ricchi e i poveri si allarga sempre di più. Dal 2002 al 2012 sono stati persi oltre 15.000 posti di lavoro e di questo passo ha spiegato Antonucci. Entro la fine del 2015 il numero potrebbe salire a 20.000. E' riuscito a sopravvire quelli che hanno avuto coraggio di andare avanti, di non abbattersi, di non dire non ce la faccio più. Certo sono stati veramente molto pochi perché questa crisi che in questo territorio parte da lontano dal 2000. In questo momento il prodotto interno lordo della provincia ma anche i salari sono fermi, anzi sono al di sotto di quelli che erano il 2000. E quindi sono andati avanti quelli che hanno avuto il coraggio, la forza di diversificare. La povertà in questo territorio è aumentata come però purtroppo sono aumentato anche i ricchi. Ormai la forbice tra i grandi ricchi e i grandi poveri si è talmente allargata che ci dicevano che i negozi che vendono a sottocosto sono vuoti ma i negozi delle grandi griff, delle grandi marche non hanno avuto in tutto questo periodo assolutamente alcun problema. In questa situazione ci sono solo poche aziende che hanno avuto il coraggio di non fermarsi, che hanno risposto bene alla crisi aumentando per esempio il numero di esportazioni all'estero. E sempre queste aziende hanno anche ricominciato ad assumere. Di qui l'appello della CGLBAT di non fermarsi e di creare lavoro. Spero che ci sono poche risorse in giro ma quelle risorse le dobbiamo utilizzare per dare la possibilità alla gente di lavorare. I comuni che investono soldi dovrebbero investirli in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili, dando contemporaneamente lavoro alla gente ma anche la possibilità di risolvere i problemi che tutti quanti i comuni hanno. I soldi che arrivano, i tanti soldi che arrivano dobbiamo utilizzarli in maniera intelligente appunto investendoli sul lavoro.